Notizia politica, ma in realtà riguarda il mondo delle pensioni, quindi facciamo molta attenzione. Ma cos'è questa storia che a 58 anni si potrebbe andare in pensione? Questa praticamente è la proposta, la nuova proposta, perché prima una cosa del genere non c'era, ce la sognavamo, è la nuova proposta di Giorgia Meluni. E come è anticipato in campagna elettorale, l'idea della leader è quello di estendere opzione donna anche al genere maschile, cioè non è che possiamo pensare solo alle donne, pensiamo anche agli uomini. E allora, in pratica si tratta di una manovra che permette di ritirarsi in pensione anticipata a 58-59 anni con 35 anni di contributi, proprio come già accade con opzione donna. Giorgia Meluni vorrebbe prendere due piccioni con una fava, quindi realizzare una promessa elettorale senza mandare troppo in tilto i conti. E come riporta Valentina Conte del Corriere della Sera, l'idea è quella di permettere a chiunque di anticipare l'uscita e poter trascorrere un po' più anni in pensione, che non sarebbe male l'idea, pagando però una penalità in linea col principio di equità verso le nuove generazioni, che praticamente sono già tutte nel contributivo. Si partirebbe da gennaio 2023, quindi ecco, molto a breve, ovvero alla fine di quota 102, che scade a dicembre, e le regole sarebbero semplici. Si va in pensione, con 67 anni di vecchiaia, oppure 42 anni e 10 mesi di contributi, a prescindere dall'età. Ed essendo già attiva opzione donna, come anche del resto, Ape Sociale, la misura assistenziale pone per i lavoratori o disoccupati più in difficoltà, che scade il 31 dicembre di quest'anno, l'idea del governo è quella di prorogarla, addirittura renderla strutturale ed estenderla a tutti. E la Meloni ha detto qualcosa riguardo di questo, ha detto vanno combattute le ingiustizie del sistema pensionistico. Invece su opzione donna ha detto un meccanismo simile potrebbe essere studiato per le pensioni degli uomini. Meno male che la Meloni pensa anche a noi. E allora la nuova premier sicuramente punta a congelare l'età di uscita di vecchiaia, 67 anni, per sempre, senza farla aumentare 68 un mese, 68 e tre mesi, perché tanto sarà sempre così, altrimenti, e quindi senza farla variare con l'aspettativa di vita, che teoricamente col tempo tende sempre un po' a salire. Stessa cosa per i 42 anni e 10 mesi bloccati dalla Lega nel governo Conte solo fino al 2026. Ma sarà d'accordo la Lega che invece vuole scendere a quota 41 anche a dispetto del costo esagerato della manovra? Questo lo scopriremo, come si dice, solo vivendo. Per ora questo è quel che c'è per ora sul tavolo. Vi ringrazio per l'ascolto. Noi ci sentiremo al prossimo aggiornamento utile, sempre su Pausa Caffè Live. Se non siete iscritti vi ricordo che potrete iscrivervi al canale oppure seguire la pagina Facebook. Io vi aspetto in qualsiasi dei due campi dove ci sono nuovi video con nuove informazioni. Quindi mi raccomando a voi.